Maurizio Gans, ex attaccante e ora allenatore della Scona in Svizzera, parliamo un po' del campionato italiano. Che cosa è che ti ha sorpreso, al di là della conferma della Juventus, quella non è una sorpresa, alle spalle della Juve? Che cosa ti colpisce? Questo equilibrio, un equilibrio che nessuno probabilmente si aspettava, la forza della Juventus, questo chiaramente si vede. Poi questo equilibrio dal secondo fino alla settima, ottava posizione, insomma, è una cosa buona, è una cosa nuova nel calcio italiano e speriamo di poter vedere più presto magari 7-8 squadre che possono poi lottare per lo scudetto. La delusione Milan rientra tra le sorprese, te lo chiedo, anche da ex Rosso Nero. Sicuramente, io credo che Inter e Milan siano per il momento le delusioni del campionato, quindi c'è tempo per recuperare per due le squadre, però, insomma, è una crisi pesante e spero che il Milan possa saltare fuori, insomma, da questo difficile momento. Il Volente però sembra aver già iniziato a risalire la china, mentre il Milan sembra essere piombato in una crisi pesante. Sì, anche perché, insomma, il Milan nelle quattro partite doveva affrontare Empoli in casa, in casa col Cesena, Chievo e in casa col Cagliari, se non sbaglio, avrebbe avuto l'occasione e ha l'occasione per fare punti pesanti e per risalire la china, insomma. Mentre domenica ha steccato con l'Empoli, che ha meritato il pareggio, ma per l'Empoli sicuramente poteva avvenire e portare a casa i tre punti. Problemi di gioco, problemi legati ai calciatori che magari non sono più da big, quali sono le cause di questa crisi? Sì, perché, insomma, se ne vuoi vedere la rosa, se ne vuoi vedere i giocatori della rosa del Milan, sono tutti giocatori nazionali, sia italiani che stranieri. Quindi c'è solamente da stare tranquilli e cercare di fare il meglio. Non è facile, perché come ho detto, è un campionato molto livellato e se una volta vincevi facile con l'ultima in classifica, ora con l'ultima in classifica riesco anche di perdere. L'ultima considerazione su Inzaghi, secondo te, conoscendolo? C'è un lavoro, insomma. È chiaro che manca magari quell'esperienza che altri allenatori hanno, però insomma, io credo che l'esperienza vada a pari passo alla squadra, vada a pari passo agli acquisti fatti dal Milan e vada anche a pari passo, insomma, in questi tre, quattro anni dove il Milan sicuramente non ha fatto bene, non ha fatto bene, non solamente in questo momento con Pippo.